Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi esploriamo il mondo degli accessori borsa. Come sapete Tessiland è sempre alla ricerca delle ultime tendenze. L'influenza delle passerelle dell'alta moda non può che risentirsi anche nei prodotti artigianali della nostra collezione. Ed è così che alcuni degli accessori più amati, quelli che possiamo dire, sono diventati dei must have a cui non sapete più rinunciare, prendono una nuova veste. Se non amate passare inosservati, se volete dettare stile ovunque voi andate, non potete perdervi questi nuovi accessori in similpelle con effetto serpente. E allora andiamo alla scoperta di tutti questi prodotti iniziando con i manici Circles. Come vediamo hanno uno stile davvero unico. Possiamo dire che con questi manici entriamo in una nuova era per tutti quelli che sono gli accessori da borsa. E passiamo ora alla tracolla Old Style che con questo effetto serpente unisce il fascino del retro e di un motivo davvero moderno e di ultima tendenza. I dettagli come i moschettoni e il regolatore sono in argento. Ed ora il set Tacos. Qui possiamo davvero ammirare nella sua interezza questo particolare effetto pelle di serpente. Qui l'accessorio sarà colore argento mentre invece la lampo zip è un tono su tono. Pensate a quanti accessori dal portamonete, portatrucchi, al beauty, una pochette per le serate. Insomma la moda davvero che si fonde con la praticità. Anche i manici o bag che vi hanno conquistato con la loro praticità e versatilità si vestono di questo nuovo stile super trendy. E per concludere un prodotto diventato ormai davvero un must have della collezione che si veste anch'esso di un nuovo stile. Qui la particolare lavorazione viene davvero mostrata in tutto il suo splendore. Possiamo quindi dire che questi laterali diventano un vero e proprio pezzo di moda che rappresenteranno il vostro stile. Grazie a tutti. Come abbiamo potuto vedere la nostra pelle effetto serpente rappresenta davvero l'apice della ricercatezza dei nostri materiali. In questo caso un materiale all'avanguardia, di stile e con un carattere davvero deciso che vi permetterà di creare accessori davvero unici nel loro genere. Pensate a quante combinazioni grazie ai manici potrete ricreare. Oppure divertirvi con i laterali stilondas. Dei semplici accessori per borsa per così dire che diventano una vera tendenza di stile che dalle passerelle passa alla vita quotidiana. Senza mai dimenticare la sostenibilità e l'alta qualità e resistenza dei prodotti made in Italy. Io come sempre vi aspetto al prossimo Tessila News ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social così da essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze. Vi ricordo la pagina Facebook Meglio di Maglia ma anche il gruppo ufficiale Tessiland, la pagina Instagram, TikTok e Pinterest e il nostro blog dove ogni settimana ci sono tantissime curiosità. Al prossimo Tessiland News!